Un uomo di 54 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 23.40 a San Lorenzo di Rovetta, all'incrocio tra le vie Risorgimento e Bogno. Alla guida di un furgoncino Ford Combo si stava dirigendo verso San Lorenzo. In prossimità dell'incrocio, dove la strada curva a sinistra, il mezzo per cause imprecisate ha tirato dritto, ha divelto alcuni cartelli stradali ed ha terminato la propria corsa nel prato. Il conducente è stato soccorso da un'equipe del Corpo Volontari Presonana e trasportato con codice giallo all'ospedale di Piario. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Clusone.